buongiorno a tutti e a tutte e mi scuso di non poter partecipare oggi di persona a questa questo open day e ho pensato di mandarvi un breve video messaggio per raccontarvi un po il mio punto di vista all'interno del corpo docente del master in linguaggi del turismo viviamo in un mondo che è ricco di informazioni e a proposito di open day abbiamo bisogno comunque di acquisire una mentalità un modo di vedere le cose che sia più aperto un'apertura mentale che credo che solo l'università sia in grado di darci in qualche modo l'università nonostante il fatto che le informazioni siano disponibili pubblicamente facilmente trovabili in rete ci permette di di avere a disposizione una bussola con cui orientarci è qualche misura un luogo di discussione ma anche di condivisione e di questi tempi la condivisione una come dire una merce rara qualche parola sul mio contributo all'interno del del master io mi occupo di comunicazione web per cui vi insegnerò le tecniche insieme ad altri colleghi che si occupano di questioni simili le tecniche per comunicare meglio sul web voi siete nella maggior parte dei casi dei nativi digitali e quindi avete diciamo naturalmente dimestichezza e familiarità con le tecnologie digitali però dobbiamo migliorare dobbiamo riuscire a migliorare l'uso delle tecnologie e in particolare vi vi avvicinerò alle tecniche che riguardano la scrittura ossia come scrivere per i media digitali per il web questo è un'attività che richiede una specializzazione non è un'attività come dire naturale che che ognuno di noi può acquisire spontaneamente è un'attività complessa che richiede competenze tecniche soprattutto relative alle tecnologie che utilizziamo alle modalità di comunicazione tipiche proprio del mondo digitale e in particolare nel campo del turismo sono dell'idea che ogni operatore debba far ricorso ma una comunicazione professionale piccolo grande che sia una competenza assolutamente necessaria per cui ci occuperemo di questo durante le mie lezioni e spero vivamente di vedervi in aula e di iniziare con voi un percorso che vi porti vicino al mondo del turismo e alle opportunità che offre che sono tantissime vi auguro una buona giornata aperta a roma 3 e saluto tutti i colleghi e le colleghe e spero di incontarvi presto buona giornata